il mix mediterraneo è un composto di semola rimacinata e semi oleosi allora noi utilizziamo e consigliamo di fare un autolisi che ci permette di avere una struttura dell'impasto più aperta quindi più alveolata proprio perché è tanto ricca di semi un'altra cosa di questo prodotto che è molto piacevole è il fatto che è molto versatile di conseguenza possiamo fare delle focacce degli stampini oppure delle baguettine o delle pagnottine appunto di varie pezzature è versatile è un prodotto versatile perché si può utilizzare sia nella panetteria che nella pasticceria da forno nella pasticceria soprattutto viene utilizzato nelle paste frolle questo prodotto e questa farina ci dà la possibilità di ottenere dei prodotti ricchi di profumi e sapori Grazie a tutti